Cari amici, bentrovati! Il video pubblicato il 21 gennaio scorso dal titolo «Con il super bonus hai ipotecato la tua casa» ha registrato un importante numero di visualizzazioni e ha generato molte domande alle quali occorre dare risposta. Vorrei ricordarvi che il video è stato tratto dalla lettura integrale dell'articola firma dottor Ivan Giordano e pubblicato sul sito condominioweb.com. Anche oggi sono onorato di ospitare nel mio canale il dottor Giordano, responsabile organismo di mediazione ed ente di formazione ICAF, tributarista, giornalista, docente, giurista d'impresa, esperto, contabile e tanto altro ancora, al quale rivolgerò le domande più ricorrenti che avete postato sotto al video. Ma prima di passare la parola ad Ivan, se non lo avete ancora fatto, vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale, per voi un gesto assolutamente gratuito, ma che mi dimostrerà il vostro apprezzamento per i contenuti che sto continuando a produrre. Attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video, lasciate un like e soprattutto un vostro commento, ma non perdiamo tempo e iniziamo subito. Ivan, bentrovato e grazie infinite per aver nuovamente accettato il mio invito. Buongiorno Diego, è un grande piacere essere qui con te e essere qui con i tuoi video ascoltatori a condividere questi temi scottanti che hanno suscitato tanto scalpore, devo dire, all'indomani della pubblicazione dell'articolo su Condominio Web. Assolutamente sì, il video veramente sta tuttora registrando un importante numero di visualizzazioni, ovviamente dare lettura ad un articolo così importante che tratta così tanti temi e ben scritto ha generato una sorta di analisi in svariati utenti del canale dove appunto sotto hanno scritto molto bello, veramente grande, bravi, complimenti, ma non è che ho capito un granché, quindi è stato abbastanza esilarante leggere alcuni commenti che probabilmente avrai anche tu letto. Ed eccoci qui pronti per poter spiegare ovviamente non solo alla Signora Maria perché vi è una distinzione, spieghiamolo a chi ci segue da casa, tra leggere un articolo e leggere lo stesso articolo dando la voce, perché io poi non ho fatto altro che leggere letteralmente il tuo articolo a livello video, vi è certamente la necessità di spiegare in modo meno complesso con esempi e in modo un pochino più comprensibile e siamo qui per questo Ivan. Certo, certo, sono sicuro che riusciremo a parafrasare l'articolo a beneficio dei nostri amici. Molto bene, allora prima di procedere vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube Icaf TV del dottor Ivan Giordano dove troverete continue pubblicazioni estremamente interessanti, ovviamente vi lascio il link in descrizione. A questo punto io direi che possiamo procedere con la prima domanda che lo tratta ovviamente da uno dei post più interessanti che racchiude un po' quello che è l'impronta generale degli utenti che hanno scritto. Dunque, allora, cosa ci chiedono i nostri utenti affinché, diciamo, la signora Maria possa comprendere? Cosa significa che i condomini non in regola con il pagamento delle spese condominali riferibili alla quota non cedibile nell'appalto straordinario non maturano crediti d'imposta? Allora, Diego, vi do un numerino, interpello numero 909-1342 del 2022 della tua regione, della DRE dell'Emilia Romagna. Questo vorrei che sia l'unico dato tecnico. Adesso cambierò la terminologia e traduco ai nostri amici da casa cosa significa che i condomini non in regola con i pagamenti del fondo straordinario non possono cedere il credito. Cos'è il fondo straordinario? Non esiste il super bonus tutto gratis, non esiste un bonus facciate che non abbia un impatto a carico dei condomini, non esiste un eco bonus, un sisma, non esiste un bonus 50, non esiste nessun bonus fiscale che non preveda che una parte dei lavori rimanga a carico dei condomini, neanche il famigliato 110. Quindi vuol dire che l'amministratore deve aver cura di calcolare in maniera molto puntuale quella parte di appalto, quella parte di lavori che non potrà essere finanziata da un bonus fiscale, da un credito d'imposta e deve andare a ripartirla fra tutti i condomini. L'interpello che ho appena citato dice che di fronte ai lavori col bonus fiscale, eventuali morosi pregressi, morosi che arrivano morosi alla delibera del bonus, sono trattati come tutti gli altri. Però la prova del 9 dov'è che ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo quando l'amministratore calcola correttamente quella parte di lavori che non potrà essere finanziata dai crediti fiscali e manda la rata ai condomini. A quel punto i condomini che cosa fanno Diego? Devono pagare la rata. Chi diventa moroso su quella rata perde il diritto alla cessione del credito. Ora, perde il diritto alla detrazione, alla cessione e allo sconto in fattura. Perde tutti i diritti di utilizzo del credito. Facciamo un esempio molto pratico su un sisma bonus, perché il sisma bonus fa maturare in capo ai singoli condomini cifre importantissime. Quindi io ho magari 100.000 euro di valore di credito d'imposta maturato sul mio appartamento, l'amministratore calcola che a mio carico ci sono 5.000 euro da pagare, poi però se pago quei 5.000 euro mi utilizzo i 100.000 euro di credito d'imposta. Se quei 5.000 euro non li pago, divento moroso sul fondo e perdo il diritto a cedere 100.000. Ora, immaginiamoci un condominio con 30 famiglie, dove 5 condomini non pagano il pezzettino di fondo a 100.000 euro a famiglia. Sono 500.000 euro che devono pagarsi tutti gli altri. Esatto. Quindi quella frase è quasi incomprensibile, che per colpa mia tu hai appena pronunciato, perché l'hai letta letteralmente il mio articolo, non dice altro che non c'è nessun bonus a costo zero, che il costo del bonus va richiesto ai condomini e questa richiesta si chiama costituzione del fondo speciale. La rata emessa dall'amministratore per la costituzione del fondo speciale bisogna verificare che venga pagata dai condomini. Se viene pagata, i condomini hanno diritto a cedere l'intero loro credito. Se non viene pagata, i condomini perdono il diritto a cedere interamente il credito. Significa questo. Che vuol dire nei condomini, Diego, che i tempi che bisogna dare all'amministratore per gestire la parte amministrativa del bonus non possono essere due mesi, devono essere tre o quattro mesi prima del primo pagamento. Perché vogliamo dare a un condomino la possibilità che gli sfugga il pagamento della rata e allora proviamo a vedere come farlo pagare o facciamo un accordo in mediazione e non lo mettiamo nelle condizioni di perdere 100.000 euro di credito d'imposta. Questo è un po' il tema. Ovviamente la spiegazione, abbiamo anche una sorta di via di mezzo, ovvero tu hai portato l'esempio 5.000 euro del condomino per 100.000 euro di credito d'imposta. Se quel condomino ne ha pagati 2.500 e non paga gli altri, avrà l'opportunità, giusto Ivan, di portarsi l'intrazione? Per 50.000 euro. Esatto, per la metà. Per la metà, quindi una proporzione percentuale su quello che il condomino avrà pagato rispetto ai crediti che potrà portarsi in detrazione. Questo, Diego, per i nostri amici da casa che fanno gli amministratori di condominio, aumenta in capo a loro la responsabilità, perché l'onere di comunicazione all'agenzia delle entrate della quota che il condomino Ivan Giordano può cedere o non può cedere. Poi mi viene mandato il modulino a casa da firmare e io lo firmerò. Però l'importo che viene scritto su quel modulino deriva dalla verifica che deve fare l'amministratore sull'ammontare del fondo a carico di Ivan Giordano e sul fatto che Ivan Giordano abbia pagato in tutto il parte quel fondo. E lì deriva l'importo da mettere lì sopra e questo lo fanno gli amministratori che ahimè hanno sulle spalle una responsabilità veramente importante. Bene Ivan, allora passerei alla seconda domanda, sempre tratta dal tuo articolo, dove dice cosa significa che il valore, anche se non richiesto dall'appaltatore dell'attualizzazione del credito utilizzato per estinguere il pagamento dei lavori, deve rimanere a carico dei condomini? Se non l'avessi scritto io ti avrei detto non ho capito la domanda. Finché hanno ragione i nostri amici da casa che ci fanno nel video su YouTube i commenti ogni tanto un po' ruvidi perché bisogna stare attivi, la colpa è mia in realtà, tu hai avuto soltanto la responsabilità di averlo letto quindi non è colpa tua, quei commenti me li sono presi tutti io. Allora, che cosa mi hai chiesto? Mi hai detto che c'è un passaggio del mio articolo che dice anche se l'impresa, il general contractor, l'appaltatore, in questo momento chiamiamolo come vogliamo non ha molta importanza, ti è disposto ad essere pagato con scolto in fattura? Non mi chiede un onere finanziario, io lo pago con un credito che lui incasserà o in 4 o in 10 anni in base al tipo di bonus eccetera. Quindi lui non incassa subito, è evidente che quel credito vale meno oggi per domani. Questo minor valore si chiama attualizzazione del credito. L'agenzia delle entrate che cosa dice con l'interpello in questo caso, consentitemi un altro numerino, 904-1140 della mia regione questa volta, la DRE della Lombardia. E cosa dice? Dice una cosa molto importante, che anche se contrattualmente le parti concordano che l'impresa non chiede un costo a carico del cliente ovviamente perché questi possa pagare il corrispettivo attraverso un credito, il servizio che l'impresa offre consentendo che il pagamento non avvenga in denaro, ma avvenga attraverso un credito, ha un valore. Questo valore va stimato e genera una parte di credito non detraibile. Fammi fare un esempio pratico Diego, se posso, così i nostri amici da casa capiscono meglio. Facciamo che io, sulla base dei listini regionali, dei preziari dei, dei listini miti, insomma dei plafond massimi cedibili, abbia maturato un credito di 50.000 euro. Facciamo che abbia un appalto da 50.000 euro da pagare. Io dico pago 50.000 euro di appalto con 50.000 euro di credito. L'agenzia centrale dice no, perché tu dando 50.000 euro di crediti, quei crediti oggi pagano meno di 50.000 euro. Se è un super bonus varranno più o meno 40.000. Se è un bonus a 10 anni, perché è un super bonus a 4 anni, se è un bonus a 10 anni varranno anche 32.000 euro. Ecco, questa differenza di valore, che è il valore dell'attualizzazione del credito, che si paga attualizzando il credito, applicando un tasso di attualizzazione, che si scarica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, quello purtroppo genera un pezzo di credito non godibile. Che vuol dire che io potrò pagare con un credito teorico di 50.000, che in realtà vale 40.000, pago e gli altri 10.000 li devo mettere in tasca mia. Se l'agenzia delle entrate non vede che ho messo gli altri 10.000 di tasca mia un domani in sede di accertamento, anche se il mio fornitore non me li ha chiesti, l'agenzia delle entrate mi dice guarda che hai ceduto 10.000 euro di credito in più, non potevi cederlo. Questo è il tema. Io non riesco a rendertelo più semplice. Come diceva Einstein, dobbiamo semplificare, ma non troppo. Non è sempre così semplice semplificare con questi... Perché poi banalizziamo. E siccome noi abbiamo la signora Maria, abbiamo gli amministratori di condominio, abbiamo gli avvocati, abbiamo i commercialisti che ci seguono, è giusto mantenere un equilibrio spiegando ma non banalizzando. Perché magari la signora Maria dice guarda, gira il link del tuo video al suo commercialista e gli dice che cosa Diego Santi e Ivan Giordano stiano mal tramando su Diego Santi Channel. Chiarissimo, chiarissimo. Allora Ivan, passerei alla terza domanda, anche questa ne do lettura ancora più articolata. Cosa significa che quando si materializza l'attività di mero contraente, praticamente ogni volta che il condominio conferisce mandato all'appaltatore di gestire in modo accentrato le opere, a prescindere dal fatto che l'appaltatore si qualifichi o meno, come general contractor, matura un valore della prestazione che genera un margine di indetraibilità del credito. E così via per numerose ulteriori fatti specie che riducono sino ad annullarlo il diritto alla maturazione del credito d'imposta. Ti piace la domanda? L'ho scritto io? A volte ci si penta di quello che si scrive. E' chiaro che devo rivolgere le mie scuse ai tuoi telespettatori, perché non si può scrivere in questo modo. Sotto questo passaggio Ivan ho letto un commento con scritto da mal di testa. Eh, ha ragione, ha ragione. Io che so un po' di mal di testa effettivamente posso immaginare cosa abbia provato in quel momento il nostro amico da casa. Allora, sempre interpello 1140 del 2022 di Arrei Lombardia al punto 5, quesito 5, risponde a questa domanda. Se un appaltatore, un'impresa, un general contractor svolge un'attività di contraente generale, cioè contrattorizza lui i fornitori per conto del committente, ogni fornitore di servizio, ma non soltanto quelli che vanno in cantiere a lavorare, anche quello che mette il visto di conformità, l'assegretore, il progettista, il direttore dei lavori, si preoccupa lui di monetizzare il credito per tutti quanti, in maniera tale che io sconto in fattura il mio credito, lui poi ci pensa lui a distribuire. E questo effettivamente è avvenuto quasi sempre. No? Ecco, allora, questa attività non è un'attività di cantiere. Come non è un'attività di cantiere il compenso dell'amministratore, che non essendo un'attività di cantiere se lo devono pagare i condomini? Quando io delego all'appaltatore di svolgere questa attività che non è di cantiere, ma che mi fa comodo e che non è soltanto l'attualizzazione del credito, è gestire in maniera centrata tutto quanto, questa attività ha un valore, è una prestazione che lui svolge per me. Come è una prestazione che lui svolge per me lo sconto in fattura, l'abbiamo detto al quesito precedente. Allora in questo caso a me potrebbe dire, ma non ti preoccupare, io lo faccio, lo faccio gratis. Perché lui dice lo faccio gratis? Perché i margini di impresa che lui ha sulle lavorazioni cedibili, cappotto, caldaia, serramenti, tutti quei lavori che tra i nati o tra i nanti vengono appaltati, con le tariffe che sono consentite all'interno di questi bonus fiscali per legge, le imprese stanno fatturando molto di più di quello che fatturavano prima per un metro quadro di qualunque cosa. Quindi dicono, vabbè, se tu mi fermi un contratto ai massimi cedibili, io non ti chiedo di pagarli con la prestazione che c'è, te la sconto. L'agenzia delle entrate dice, guarda che lui può anche non chiedertela, ma quell'importo, il valore di quella prestazione, tu lo devi calcolare e non puoi cederlo con lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per gli orneri finanziari. Con la sola differenza, Diego, che gli orneri finanziari hanno un tasso, un'aliquota, la vado a scaricare dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, scrivo su Google, attualizzazione, crediti, Ministero Sviluppo Economico, mi esce il tasso che devo applicare. Qui io mi chiedo, come faccio a quantificare la prestazione del general contractor e poi pagargliela? Perché se l'agenzia delle entrate non vede che gliel'ho pagata, me la viene a chiedere indietro in serie di accertamento, perché io ho generato un credito extra che non avrei potuto cedere nella misura di quell'importo. Allora, l'importante è che i nostri amici da casa, che i commercialisti, che gli avvocati, che gli amministratori che ci seguono, capiscano cosa si intende a questa cosa. Cioè, che se mi affido a un general contratto, faccio bene, perché è uno dei tanti fornitori di cui posso servirmi, ma non è il muratore che mi viene a fare l'opera edile, è uno che mi fa anche degli altri servizi. Quei servizi là, quelli che non sono edili, che non sono anche tecnici, propedeutici all'apparato l'asseneratore, quelli li devo pagare. Il problema qual è? È quantificarli. Allora noi adesso abbiamo presentato alla DRE Lombardia per un condominio di Bergamo un'altra istanza di interpello che è legata a come quantificare gli onel del general, perché su come quantificare il Diego non abbiamo la risposta. E la risposta arriverà, probabilmente dovremmo dedicare qualche altro video a questo tema, perché l'obiettivo è dire, in sede di accertamento se io ignoro questa voce e quindi cedo il credito, ignorando che il mio appattatore ha svolto questa piccola attività, l'agenzia delle entrate vede che la voce non l'ha valorizzata e vede che io ho ceduto il credito per intero. Me lo contesta e mi applica il 200% di sanzione. Allora, come fa a contestarmelo? E guarda in quale altro ambito operano il general contractor. E l'agenzia delle entrate come ambito più comune ha l'appalto pubblico, dove i margini del general sono intorno al 15%. Ma se l'agenzia delle entrate applica un 15% in sede di accertamento e poi lo moltiplica per tre perché deve applicare la sanzione, vuol dire che il 45% di un appalto da un milione, quindi 450 mila euro, in sede di accertamento ritorna come un boomerang addosso ai condomini. Allora il quesito che io ho sottoposto alla direzione generale delle entrate della Lombardia, grazie a un amministratore di Bergamo che mi ha conferito il mandato per presentare l'interpello, è proprio volto a capire se può esistere un criterio di calcolo dell'attività del general contractor, volto a fare meglio perché magari questo dedica 30 ore per fare questa attività, pagate 100 euro all'ora e mettiamo 3 mila euro, non mettiamo 150 mila euro, però la risposta non l'abbiamo e presto arriverà. Quindi guarda, io spero di essere stato chiaro a beneficio dei nostri amici da casa, però l'argomento è complesso. Assolutamente sì, provo a porti una domanda che presumo di conoscere la risposta, però quel librido, abbiamo parlato di general contractor, ipotizziamo quindi l'appalto ad un'impresa edile che interviene sul condominio, monta i ponteggi, esegue materialmente delle opere, non tutte, e poi esercita un mero appalto in edilizia per altre opere, ma anche la gestione dei tecnici, quindi l'impresa che prende l'appalto per il condominio, che opera nel condominio ed esegue una parte magari maggioritaria dei lavori, la stessa impresa gestisce i rapporti con i tecnici, con il visto di conformità con i vari professionisti e il subappalto anche qualche opera. In questo caso come la mettiamo? Allora, guarda Diego, il vero subappalto di prestazioni edili non qualifica il ruolo di general contractor o di mera attività di contraente generale. Quello che invece più comunemente porta a generare un pezzettino di questa attività è la delega per effetto dello sconto in fattura a un unico interlocutore, perché se io facessi lo sconto in fattura con tutti loro e parlo tutti quanti attraverso tanti piccoli sconti in fattura, il problema non si genererebbe. Oggi io cosa faccio? Per comodità, per potere contrattuale verso le banche, ho un unico interlocutore a cui cedo il mio credito, poi lui monetizza il credito per tutti e distribuisce attraverso contratti a valle che fa lui la monetizzazione di questo credito. Questo non è un servizio di cantiere, non è un suo appalto in edilizia, non è l'affidamento del coordinamento della sicurezza a un tecnico che è deputato a tale scopo. Quello non qualificherebbe contraenza generale, è questa attività non di cantiere che qualifica la contraenza generale. Alla luce di questo però può essere che in un grosso appalto, se è ben chiaro l'agenzia delle entrate, questo lavoro abbia un valore marginale e rischiare di avere a che fare con il general contractor che ormai risponde ai condomini, no ma noi non siamo un general contractor. Questo però, credimi, è una sciocchezza enorme, perché emettere la testa nella sabbia per veramente quattro soldi, perché senza che fare così si presentasse un chiaro interpello in un'agenzia delle entrate, l'abbiamo fatto per Bergamo, e uno dice guarda il mio general contractor fa il general contractor, ma veramente fa questi quattro adempimenti e noi li abbiamo quantificati a 150 Euro l'ora, a 200 Euro l'ora di figure top, fiscalisti, consulenti aziendali, legali, ma vuol dire 30 ore a 200 Euro l'ora, l'agenzia delle entrate non può contestarmi che il valore normale di una prestazione sia superiore a 200 Euro l'ora o potrebbe contestarmi che 30 ore sono poche per quella prestazione. Ce ne metto 40, diventano 8 mila Euro, ma non saranno mai 150 mila Euro che rischio che mi vadano ad accertare. Mentre invece al contrario, direi tutti coloro i quali stanno mettendo la testa come lo struzzo nella sabbia, quelli si troveranno ad avere quantificato zero. Per poi avere un accertamento, l'agenzia delle entrate non ti viene a dare una mano a farti il calcolino delle ore, ti dice guarda il general, normalmente secondo la pressa commerciale matura un 15%, tu hai un appalto da 1.150.000 Euro mi devi dare indietro, più un 200% di sanzione. Non so se i condomini vogliono trovarsi a pagare un pezzettino oggi o a buttare via tutto il bonus domani. Noi abbiamo la responsabilità, io sono giornalista, per me la notizia rappresentata senza un condizionamento economico, commerciale, è un dogma e quindi noi abbiamo la responsabilità e tu questo lavoro lo fai con grandissima devozione e da molto più tempo di me, di divulgare la correttezza dell'informazione. I bonus fiscali hanno la loro convenienza. Se io devo fare un lavoro, ma duro 50.000 Euro di credito d'imposta, pago il lavoro per quello che è giusto pagarlo sul mercato e mi costa 10.000 Euro, ma io lo faccio domani mattina. L'importante è non pensare che sia gratis e non pensare che sia a rischio zero, perché se io invece genero crediti più alti rispetto a quelli che ho diritto a generare e nei tuoi quesiti che mi hai posto, in tutti e tre i casi, morosità, onere finanziare e general, che sono i tre quesiti che mi hai posto, in tutti e tre i casi io genero crediti più alti rispetto a quelli che potrei generare. Automaticamente genero crediti inesistenti, automaticamente l'agenzia delle entrate potrà andare a chiedermi indietro applicando le sanzioni e che cos'è che farà? Pignorerà gli immobili a chi non sarà in grado di restituire il triplo di quello che ha ottenuto. E' questo il senso dell'articolo, non è terrorismo, è la realtà dei fatti. Aggiungo, guarda che l'articolo che poi tu ho avuto l'onore che abbia trattato nel tuo canale YouTube, i condomi non hanno ipotecato l'appartamento, hanno ipotecato tutto il loro patrimonio attuale e futuro, perché se non basta l'appartamento gli vanno a prendere anche quell'altro, gli vanno a prendere il quinto dello stipendio, cioè l'agenzia delle entrate, non perdona. Allora oggi basterebbe ascoltare due pazzi che hanno due canali YouTube che ogni tanto si incontrano con grande piacere, non ti faccio le nomi né i cognomi, Diego Sanzi e Ivan Giordano, spero che tu non mi querelli per questa definizione, se no la ritiro immediatamente, ecco, chi vanno in giro a terrorizzare? Non è terrorizzare, è fare corretta cultura, perché i bonus fiscali sono convenienti se li applichiamo in maniera corretta, se invece eludiamo il fisco e allora stiamo creandoci di bene. Esatto. Allora dunque abbiamo analizzato tre punti critici, nel tuo eccellente articolo parli di 80 punti di alert che hai redatto, che hai inserito evidentemente in un documento informativo e che hanno veramente riscosso interesse e curiosità. Molti ascoltatori mi scrivono dicendo ma dove sono questi 80 punti, dove possiamo trovarli? Allora, nel tuo canale YouTube, in ICAF TV e anche ogni mercoledì su Condominio Web, ogni settimana Condominio Web e ICAF TV ne pubblicano uno. So che poi tu dai molta visibilità a questa iniziativa, quindi sicuramente li trovano anche via via nel tempo nel tuo canale YouTube. È un'attività consulenziale che noi facciamo come nostra propria attività professionale. Se i nostri amici da casa hanno bisogno perché vogliono contestarli nelle assemblee dove stanno rischiando di rimanere schiacciati tra l'impudio e il martedio, dove hanno la sensazione che nel loro Condominio stiano facendo le cose non come si deve. Se sono avvocati che vogliono impugnare le delibere, perché sono anche motivi di impugnazione delibere. Sono amministratori che vogliono dare le corrette informazioni ai propri condomini prima di fargli assumere una delibera per far sì che l'assumano in maniera più consapevole. Possono scrivere a consulenze-istituto-icaf.it e noi gli daremo gli strumenti che nell'abito della nostra consulenza è possibile acquisire questo documento. È un documento che oggi che i nostri amici stanno guardando il video è composto da 80 punti, poi magari fra un mese saranno 85, fra due mesi saranno 90. Si chiama decalogo del consenso informato, perché prima erano 10 punti, sono diventati 80. Ecco, questa dimostrazione di come si evolvono le situazioni, cosa emerge anche e soprattutto grazie ai tuoi interpelli molto preziosi che spesso presenti e che poi creano dei precedenti, il caso specifico che viene trattato e che è da guida per molti altri casi simili. Quindi, fammelo dire Ivan, io credo che soprattutto il tuo lavoro, io faccio una divulgazione grazie anche a ciò che imparo soprattutto da te e alle letture che effettuo. Possiamo dirlo che stiamo facendo anche un servizio pubblico? Secondo me lo è, secondo me lo è, perché non abbiamo in sovraimpressione la pubblicità di un general contractor, la pubblicità di uno studio tecnico, cioè non stiamo vendendo nulla. Io vendo chiaramente la mia attività consulenziale perché questo è il mio mestiere di professionista. Tu amministri i condomini e sicuramente chi si mette nelle tue mani lo fa con la certezza di avere una persona che gli dice le cose come stanno e che non induce in debibere, come dire, che li possa esforre a dei rischi. Quindi è evidente che facciamo questo perché è il nostro mestiere, ma in questo momento specifico in cui stiamo parlando ai nostri amici da casa, lo stiamo facendo in uno spirito esclusivamente divulgativo senza resinare alcuna forma di informazione. Chiarissimo. Ivan, ti ringrazio infinitamente per il prezioso tempo che ci hai dedicato e visto che oramai si è diventato un punto di riferimento anche per gli utenti del mio canale, diamo l'appuntamento ai nostri amici da casa al nostro prossimo video. Spero che le informazioni e le risposte che ci ha dato il dottor Ivan Giordano siano state di vostro gradimento. Se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale, questo mi dimostrerà il vostro apprezzamento per i contenuti che sto continuando a produrre. Iscrivetevi anche al canale ICAF TV, mi raccomando, perché lì trovate le informazioni e video che il dottor Giordano con estrema frequenza pubblica. Vi lascio ovviamente il link in descrizione. Per il momento da Diego Santi è tutto. Al prossimo video! Grazie a tutti!